La FIOMCGL è in corteo per il lavoro e le politiche a sostegno del reddito, per i diritti fondamentali e il contratto nazionale. Unions per giuste cause porta in piazza le rivendicazioni del maggior sindacato dei metalmeccanici, in coalizione con le associazioni, i comitati e le realtà sociali che si muovono nel paese. I migliaia hanno sfilato sotto la pioggia arrivati da tutta Italia con esodati emigranti, lavoratori delle grandi aziende e delle aree di crisi. Insieme alla FIOMC anche pezzi sparsi della sinistra e altre sigle e correnti della CGL, dove i metalmeccanici vogliono essere il motore politico che unisce il mondo del lavoro con le stanze sociali. Al centro della manifestazione di oggi c'è innanzitutto una contestazione sostanziale ad alcuni dei contenuti della legge di stabilità. Certo, questa è una manifestazione, io dico così, per riprendere un cammino che avevamo interrotto. Al centro di questa manifestazione ci sono temi come quelli che derivano dalle scelte sbagliate che questo governo sta facendo con la legge di stabilità, ma non solo, ma al centro della manifestazione c'è anche i temi del contratto. Ecco, a proposito di contratto, che cos'è che rivendicate? Innanzitutto che ci debba essere un contratto, perché ormai è chiaro che c'è una politica che vorrebbe far sì che il contratto nazionale perdesse o fosse abolito o perdesse comunque la sua forza e il suo senso. Noi sappiamo benissimo che nel settore metalmeccanico, ma è un dato che vale per tutti i settori, soltanto il 20% dei lavoratori sono coperti da una contrattazione, per cui è chiaro che verrebbe fuori un modello che lascia fuori la stragrande maggioranza dei dipendenti e poi, dico io, anche verrebbe fuori un modello che in qualche modo rispecchia un'idea sbagliata di società, ognuno per sé e senza più nessun legame di solidarietà. In questo modello di società riusciamo a far rientrare i lavoratori individuali, professionisti, autonomi, lavoratori ai quali probabilmente una tutela collettiva forse non interessa nemmeno o ho sbaglio? No, io non credo che non interessi, sono in una situazione in cui non se la possono permettere, non sono in grado di garantirsela, per cui io credo che una delle sfide è proprio questo, cercare di allargare la nostra rappresentanza e la nostra rappresentatività, includendo tutta questa gente che altrimenti rimarrebbe fuori.